Ciao a tutti amici iscritti! Stasera, stasera alle 20, andiamo ad aprire i regali di Natale 2023. Quest'anno il 2023 è stato un po' l'anno peggiore, ma prossimamente parlerò nella mia vita del 2023. Oggi andiamo a vedere tutti i regali che ho preso nel Natale 2023. 2023 sì, e oggi, beh come l'anno scorso, vabbè, c'è. E vedremo tutti i regali di Natale del 2023. Uno dei primi è stato questo, il pandolino di Peppa Pig. Quando vedevo Blade 2, ho messo questa carta di adesivi, perché è rovinata la confessione del mini pandolino Peppa Pig. Se voi lo potete recuperare ancora. Ma quest'anno non ho preso il mini pandolino del Tattoo Ninja, perché sono povero e non ho molti soli, perché l'anno 2023 è stato uno schifo, che ne parleremo in futuro. Motta, pandolino, Peppa Pig, con sorpresa. Qua c'è raffigurata la famiglia Pig, mamma Pig, papà Pig, Peppa Pig e George Pig. Susie Peccola, Babbo Natale e le rene, perché le rene sembrano quasi a Peppa Pig a caso, sempre Peppa Pig, vabbè. E qua. Nella novità del pandolino Motta, ha questo laccetto, che è oro, corato e bianco. Ve lo ricordate? Forse in descrizione metterò la recensione che che l'ha recensito. Peppa Pig e... come si chiama Bluey. In questo pandolino di Peppa Pig, con la sorpresa, abbiamo trovato Peppa Pig con la salopetta e la maglietta gialla. Contenta, è uno sticker di Peppa Pig. Ma, se davvero contengono due sticker, fammi sapere nei commenti, che poi è prodotto da l'antagonista di Brando Technic. Ovvero, bonus marketing. In Spagna. Bonus marketing che ha prodotto anche altri adessivi, altri personaggi dei cartoni animati. questo è Peppa Pig che abbiamo trovato in pandolini. Ma le tartarughe ninja... Speriamo, se usce le mini colombine delle tartarughe ninja e ci sono le stesse sorprese, allora, prenderò i mini colombine delle tartarughe ninja e lo conservo bene bene i soldi. Poi ho trovato per strada, da qualche parte, ho trovato questo. Cioè, la collezione dei Minions. Minions. La lattina Kinder Cola. Che non l'ho mai bevuto, non l'ho mai saggiato in Stuart. Prodotta da Mizukiz. Chi è questo Mizukiz? Scrivetelo in un commento qui sotto. È stata bevuta un'altra persona, è un po' rovinata, va bene. Poi, nelle patatine della Paw Patrol, che abbiamo recensito San Carlo Junior, Paw Patrol, abbiamo trovato Marshall, della Sfilm di Paw Patrol. Che queste sorprese sono prodotte da Eurosystem. Paw Patrol, Mike D. Movie. Paw Patrol, i super film. Devo chiamare i super film. Va bene. Poi, come sempre, come l'anno scorso Happy Meal, come Adopt Me, gli Happy Meal, c'è l'Happy Meal di The Elf of the Chef. Anche Lisa ce l'ha l'Happy Meal di The Elf of the Chef. Visto nella parte del primo Natale, 2000, e vedi te, gli universi salve Natale, degli universi Remake. The Elf of the Chef. A Christmas tradition, dove c'è questo elfo maschio? perché mi sembravano tutte elfe femmine. Quell'elfa nera femmina. Sto, sembrava la casa di Babonata, invece non è vero, perché nella seconda parte degli universi, che esatto? E c'è la casa dove abita questi elfi, che sono disegnati sulla scatola. Ma per ora sempre uno, forse gli elfi, non lo so se li prenderò come mercatini, scambi, vediamo, lo scopriremo quando avrò molti soldi. Prossimamente, se volete, quando vado al mercatino, lo chiamerò questo, Back, Back to the Mercatino, by Paolo Paoli New, che non sto copiando il programma di Blade 2, ma sto, non copiando, perché Back to the Mercatino di Blade 2, non c'è. Qua abbiamo trovato la Volpe Artica, devo ancora trovare un nuovo posto, che si vede bene, si illumina bene, questo è l'unico posto che sono riuscito a trovare, nella stanza di Lorenzo. Guardate il pandorino, buono, buono, siamo buono. qua a volte si vede male. Allora, la scorsa settimana, ho trovato, ho comprato, solo per la serie di Kinesopesa Natale 2023, che anche volevo, peccato, ma con le sono sempre uno, c'è quello del Kinesopesa Bavo Natale, che ho trovato la confessione, quella, quella di stagnola, gialla. Bavo Natale figura a cava, quello è rimasto. E apriamolo subito, perché? Lo sapetevi, peccato che non c'è la confessione da 4, altrimenti, beh, gli anni della vita. E da se, gli sono riuscito a trovare, oppure anche i mazzi, li sono riuscito a trovare, anche quello con i cuoricidi, mi sono riuscito a trovare. E anche i Kinesopesa, mazzi, di Natale, li sono riuscito a trovare. Forse non è una pessima distribuzione, come dice Blade 2. È solo che a caso, vabbè. Ci vediamo tra poco. Babbo Natale. Poi ho visto un video di Blade 2, del Kinesopesa Natale 2023. Abbiamo trovato, ah, abbiamo trovato, l'anno scorso abbiamo trovato, lo schiaccianoci del Natale 2022. Poi, è la prima volta che apro, per la prima volta, il Kinesopesa di quest'anno. Ok? Abbiamo trovato, l'omino di marzapaneo. L'anno scorso lo schiaccianoci. Quest'anno, l'omino di marzapaneo. Va bene. Ma questo è della serie nuova. Sì, sì, della serie nuova. Kinesopesa Natale 2023. Quella nuova serie, dove c'è l'Arena, Babbo Natale, su Mino e Badiglia, le cartine del Kinesopesa, sono diverse, va bene. Abbiamo trovato, l'omino di marzapaneo. Che forse comparirà, probabilmente, nella parodia degli universi, scecchi. Perché questo, regalo, disegno, Kinesopesa del Natale, è più bella, è perfetta, è bellissima. VT 345. Va bene, non voglio dire, così, va bene. abbiamo trovato, l'omino di marzapaneo. E qua, si può disegnare la campanella, di Natale. Guardate, abbia, guardate com'è carino, questa sorpresa, è bellissima. Questo lo comparirà, nella parodia. Vabbè, questo è il miglior, sorpresa di Kinesopesa Natale. Ma, ho detto a Bray 2, nei commenti, del Kinesopesa Natale 2013, che voglio anche, le doppie, cioè, la rene sta, signora, la, la signora Natale. Quindi, aspettate, che sta per arrivare. Adesso, apriamo il regalo di Natale, di Paolo, Paolini, sì. E comunque, ho visto un video di Blay 2, del Kinesopesa Natale, 2023, quello, di, Natale, vabbè. Abbiamo il regalo, il pacco misterioso. Abbiamo trovato, questo regalo di Natale. Abbiamo trovato, le mutandine Bermuda. Guardate com'è carino. Non si vede bene. Se Yuva Ryan guarda questo video, giuro, vabbè. Lo guarderà sicuramente. Abbiamo questa mutanda, nera, con le strisce rosse. Poi abbiamo questa mutanda grigia, con le strisce rosse. Poi abbiamo questa mutanda rossa, con il rosso, qui è sì, la mutanda con la strisciona brutta. E questo cappello, comprato da NKD, NKD, One Seas. Da NKD, questo cappello è bellissimo. Questi sono i regali di Natale 2023. Anche se è stato l'anno più schifoso, a volte vabbè. Lo vedrete la mia vita del 2023. Quindi iscrivetevi al canale di Paolo Paoli New, mettete più mi piace, condividete, commentate e Buon Natale 2023. Adesso mangio questo Pandoro e ci vediamo al prossimo video. E torneremo presto con tanti bel video. Ciao!